A poche ore dall'arresto di Giovanni Grieco, gli inquirenti continuano a lavorare per chiarire alcuni aspetti legati all'omicidio di Gian Domenico Orlando, il 67enne accoltellato a morte ieri mattina, dinanzi il suo laboratorio di via Bruno Buozzi dopo l'ennesima discussione con il suo aggressore per dissidi e dispute condominali. In attesa della convalida del fermo del presunto omicida, si stanno ricostruendo le ore seguenti l'accoltellamento del pasticcere pescarese, molto noto in città. Gli uomini della squadra mobile della questura di Pescara dovranno capire come Grieco sia arrivato a Pineto dopo aver abbandonato la sua auto in via Isonso e se abbia potuto contare, cosa al momento improbabile, sull'aiuto di qualcuno nella disperata fuga. Una fuga durata otto ore che si è conclusa a Pineto quando il 42enne è stato notato dalla moglie del vice comandante della polizia locale che ha allertato i carabinieri che poco dopo hanno bloccato il presunto killer. Nel corso dell'interrogatorio il butta fuori in stato di shock, come riferito anche dal suo avvocato Paolo Marino, non è riuscito a spiegare il perché dell'accaduto, avendo appreso solo successivamente che il pasticcere era deceduto, subito dopo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si è avvalso della facoltà di non rispondere anche perché è in un forte stato confusionale, quindi non è in grado neanche di rispondere, in quanto non sapeva che la vittima era deceduta, non era a conoscenza, è venuta a conoscenza adesso. Non si è reso conto di aver ucciso? No, assolutamente no. Il questore di Pescara Paolo Passamonti arrivato a Pineto subito dopo la cattura del 42enne ha sottolineato l'importante sinergia tra le forze dell'ordine per la cattura del 42enne. L'avete rintracciato come? No, l'hanno preso i carabinieri innanzitutto, quindi in merito ai carabinieri che hanno fatto un bel servizio e abbiamo diramato le ricerche insieme al comando provinciale e quindi è stato individuato. Intanto in attesa di conoscere nelle prossime ore i risultati dell'autopsia sul corpo di Gian Domenico Orlando, gli uomini della polizia scientifica inizieranno ad analizzare l'arma utilizzata per l'accoltellamento mortale e l'auto, una minicooper, utilizzata per la fuga. Grieco si trova attualmente nella casa circondaliare di Teramo. Nei prossimi giorni l'inchiesta dovrebbe passare alla procura di Pescara. Grieco in passato aveva già avuto problemi con il figlio di Gian Domenico Alessio. I dissidi duravano da tempo e il 42enne aveva in casa un macete, quattro pugnali, una catena, uno sfollagente. Elementi questi che potrebbero aggravare la sua posizione. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Pescara, Rosangela Di Stefano, e dal PM della procura di Teramo, Silvia Scamurra. Grazie. Grazie.